Anche questa settimana, come nelle scorse, abbiamo un'offerta particolare. Questa è la settimana dedicata ad Erriet ed in particolare a due linee, Trinagria e Sinfoni, che sono le linee più colorate ed estive di Erriet. Trinagria è una linea che, come si evince dal nome, si ispira alle ceramiche tipiche siciliane. Infatti già nei decori e nei colori si rivedono quelli che sono i tipici colori della ceramica siciliana. Abbiamo una gamma di colori che spazza dal giallo al blu al rosso con dei richiami al turchese. Erriet propone due alternative, quella della ceramica tradizionale e quella della melamina. Ovviamente questo fa sì che gli oggetti abbiano un costo differente, ma non cambia la qualità del prodotto. In effetti anche quelli di melamina sono, oltre a essere molto più forse pratici, perché possono essere lavati tranquillamente anche in lavastoviglie, hanno dei decori e dei colori talmente brillanti. È una lavorazione che fa sì che sembrino di ceramica. Abbiamo in offerta questo piatto, che è un piatto da un diametro di 38 cm, quindi bello grande, e può essere utilizzato sia come un centrotavola o anche come piatto da decoro murale. Ed è molto molto bello. Poi abbiamo un piatto, il piatto grande di ceramica, questo ha un diametro di 36 cm e può essere utilizzato come piatto da portata o anche con un piatto torta. E poi abbiamo sempre della stessa linea, la pala torta e il vassoietto, sempre di ceramica. Invece in melamina, oltre al piatto grande, abbiamo anche una linea di vassoi, fra cui questo, in cui spicca di più come i colori il turchese e il blu. Oltre alla linea Trinacria, come abbiamo detto, c'è anche la linea Sinfoni. La linea Sinfoni ha un decoro più floreale e più moderno. È una linea che si ispira ad una gamma di colori nei toni freddi, quindi tra il verde, il blu e il lilla. Ed anche in questo caso abbiamo la doppia alternativa fra gli oggetti di ceramica e gli oggetti di melamina. In questo caso abbiamo un vassoio grande da portata e abbiamo questa, che è un'antipastiera, che è in melamina. Diciamo che sono tutti belli e vanno tutti visti dal vivo, perché in effetti veramente meritano di essere guardati da vicino per capire la bellezza della lavorazione dei colori. Vi aspettiamo in negozio, siamo a Monteforte Irpini, in Bialoffredo, nei pressi del comune. Di alcuni ne sono rimasti pochi pezzi, quindi affrettatevi.